Il film che vi andiamo a consigliare oggi è Sergio, una pellicola Netflix. Il film parla della figura di Sergio Vieira de Mello, un diplomatico brasiliano delle Nazioni Unite, secondo nei primi anni 2000 solo a Kofi Annan. Il personaggio è interpretato da Wagner Moura, famosa e più per il ruolo di Pablo Escobarín nella serie Narcos. In particolar modo il film si struttura su tre binari. Il primo andare ad analizzare la figura dell'ONU, considerato un mediatore ma tra luci e d'ombre. Il secondo andare ad analizzare la figura del politico Sergio e del mediatore Sergio, famoso per l'indipendenza del Timoreste e della sua contrapposizione nei confronti dell'occupazione americana in Iraq. E' in terza battuta andare ad analizzare il Sergio Uomo e cosa voglia dire la vita di un diplomatico, quali siano i rischi, i sacrifici, i trasferimenti, gli addi, insomma quali siano le conseguenze. In particolar modo però vorrei portare l'attenzione su una frase detta dal diplomatico Sergio al comandante americano in Iraq che è Quasi da monito a quello che poi sarebbe successo. Cioè si è passato da una guerra che non ha avuto né vincitori né vinti a una successiva guerra civile irachena che ha poi creato un mostro, l'Isis, che ha terrorizzato l'Occidente più avanti nel 2014 e nel 2015. Grazie a tutti.